Parla tifoso napoletano Come sempre, siamo qui per tenerti aggiornato su tutte le nostre mosse più emozionanti. Ma prima di tuffarti nelle novità, ti chiedo la forza, lascia quel like birichino e, se non sei ancora iscritto, non perdere tempo e iscriviti per non perdere nessun dettaglio. Amici napoletani, la nostra incessante ricerca della continua perfezione. Ed ora, rivolgiamo lo sguardo al centrocampo, alla ricerca di rinforzi che possano rafforzare ulteriormente la nostra squadra alla ricerca dei risultati positivi. Che tanto desideriamo, secondo le ultime notizie, due nomi sarebbero nel mirino, Town Coop Mainers e Lazar Samarczyk. Tuttavia, le cose non sono così semplici quanto interessanti. L'Atalanta sembra restia a far partire Coop Mainers, mentre Samarczyk, nei nostri piani da mesi, è tornato all'Udinese dopo la trattativa fallita con l'Inter. Il tempo stringe e la finestra di trasferimento si sta chiudendo velocemente. Se vogliamo portare questi rinforzi all'ombra del Vesuvio, dobbiamo agire velocemente. E in questo momento i buoni rapporti con Pozzo, dell'Udinese, possono essere una risorsa per accelerare questa trattativa. E ora, tifosi, la palla è nel vostro campo. Cosa pensano questi potenziali assunti? Vedremo Coop Mainers o Samarczyk con la nostra maglia. Lasciate le vostre opinioni nei commenti, dopo tutto il Napoli è la nostra passione comune. Se ti è piaciuto questo interessante aggiornamento, non dimenticare di lasciare quel potente mi piace e, ovviamente, iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun dettaglio. Ci vediamo alle prossime novità. Forza Napoli sempre!